Eccola, è lei. Che curve. Ma niente pancia. Hmm, qui c'è qualcosa sotto. Super Look Secrets da Plytex. Carino, ma il segreto? Una mutandina. Molto più di una mutandina. Con l'esclusivo Magic Mix dà un controllo invisibile solo dove serve ed è comoda come uno slip. Per far sparire la pancia ma non le belle curve, Super Look Secrets da Plytex. Plytex, la forma della bellezza.